Buonasera, grazie a tutti per essere così numerosi e soprattutto un grazie di cuore a Giulia Cogoli, a Luca Iozzelli, alla Fondazione e a tutti i ragazzi che contribuiscono alla realizzazione di questo festival che ha compiuto il decimo anno e siamo qua per festeggiarlo. In qualche modo oggi sentendo la bellissima relazione di Enzo Bianchi mi sono accorto che aveva un attacco che in qualche modo si lega a quello che ha detto lui e mi sono immaginato un bambino, un bambino che come tanti a volte amava sedersi su una sponda di un fiume e dopo un temporale guardare gli arcobaleni e questo gioco di acque riflesse nel sole, una specie di nastro di pioggia a colori, una sorta di seta lunga e sottile che però aveva vita breve e questo bambino chiudeva gli occhi perché quasi sperava che non svanisse così col primo sole e lo vedeva specchiarsi nell'acqua del fiume, un'acqua senza patria potremmo dire, che era un riflesso diviso tra due mondi e metà. E questo bambino poi divenne, wow, studiò e divenne un famoso architetto, si chiamava Mimar Ayrodin e fu lui nel 1566 a pensare che quell'arco che era solo fatto di acqua e luce poteva diventare una realtà e non finire a ogni sole e così progettò un arco in pietra che unisse due parti della stessa città, due parti che erano separati da un fiume e questa città porta ancora oggi il nome del ponte Mostar. Non so se davvero sia andata così però mi piace pensare che questo ponte come oggi ha già detto Enzo Bianchi ecco abbia costituito per secoli il segno della volontà di stare assieme di due comunità, una musulmana e una cristiana e di unirsi, di scavalcare queste acque e unire due mondi che univano anche due modi di pregare Dio in modo diverso, due storie diverse che però ci dà anche l'esempio di come sia possibile convivere nella diversità. Due comunità, ecco stasera uno dei temi è quello della comunità, come nasce una comunità? Beh innanzitutto nasce dalla volontà di non pensarsi diversi, di voler condividere spazi, tempi, di pensare insieme a un domani comune. La comunità è soprattutto un progetto, è un'idea, non basta un territorio comune e condiviso, bisogna davvero pensare a qualcosa che viene dopo, a un domani e bisogna costruire dei legami reciproci che si fondano su che cosa? Sul riconoscimento dell'altro, dell'altro anche a volte nella sua diversità. Io provengo da un piccolo paesino di montagna nella provincia di Cuneo che quando era abitato aveva 1500 abitanti, metà erano pastori, metà contadini, si detestavano tra di loro in una maniera incredibile e si sposavano contadini con contadini, pastori con pastori, avevano un sacco di cose su cui litigavano ma comunque continuavano a pensarsi una comunità, non era solo il territorio, era comunque la volontà di stare insieme. Ora comunità è una parola che quando oggi la pronunciamo suscita quasi subito un senso di nostalgia, perché è una parola un po' calda che evoca intimità, calore, ci sembra quasi un qualcosa di mondo perduto, l'albero degli zoccoli, ecco mi viene in mente. Ed è curioso pensare che mai come oggi il termine comunità viene pronunciato proprio perché ne sentiamo la mancanza. E questo ci deve far pensare, ecco, quando cominciamo a evocare troppo un termine, un concetto è perché cominciamo a sentirne la mancanza. E perché sentiamo la mancanza di quel senso di comunità, quel senso anche di legame che ci lega agli altri e magari a un luogo, se non altro, come diceva Pavese, un paese ci vuole se non altro per andarsene via e poi magari tornare. E che cosa è accaduto? Beh, intanto diciamo dalle piccole comunità anche del passato, non solo qui ma anche altrove, il passaggio alla dimensione urbana ha dilatato gli spazi e anche condizionato i rapporti. Fino a un secolo, poco di più fa, le città avevano una dimensione per cui da un punto o un po' in alto ne vedevi quasi la fine. Oggi le città sono sproporzionate, sono tentacolari, spesso con strutture urbanistiche complesse, difficili anche persino da comprendere dove inizia, dove finisce. Ecco, lo spazio si è frammentato in tanti sottospazi e di conseguenza anche i legami tra le persone in qualche modo sono venuti meno, si sono allentati. e molto spesso però queste sottocomunità non si ritrasformano in comunità, ma rimangono degli aggregati a tempo, momentanei, non creano dei veri legami, non creano quel riconoscimento dell'altro come membro della tua comunità. E i confini si vanno via via facendo labili, i confini e anche il senso di appartenenza col territorio. La globalizzazione in qualche modo ha anche indebolito un legame col territorio. Sto pensando per esempio a un esempio, un caso sendo torinese, la Fiat per decenni è stata, forse più di un secolo, è stata identificata con Torino, ce l'aveva anche nella sigla, la T. Oggi non sapremmo dire dov'è la Fiat, che non si chiama nemmeno più così, ma non sappiamo neanche di dove sono moltissime altre industrie, disperse il territorio e questo fa venire meno anche dei punti di riferimento su cui poter contare per costruire una narrazione comunitaria. È anche aumentata la rapidità del movimento. Gli spostamenti oggi sono sempre più rapidi, ci muoviamo spesso in automobili con mezzi pubblici, qualcuno addirittura sotterraneo, non vediamo quasi più nulla del paesaggio che ci sta attorno. Sono dei movimenti che vanno da un punto all'altro senza quasi niente in mezzo, come se non accadesse nulla, il tra non c'è più. E questa accelerazione che è impressa a tutte le nostre esistenze è stata impressa anche dai flussi di informazione che con la rete e il web sono diventati sempre più copiosi e sempre più rapidi e quotidianamente ci avvolgono e hanno trasformato la nostra dimensione temporale in una sorta di bolla di eterno presente a scapito delle altre due dimensioni, il passato e il futuro. Il futuro è un prodotto dell'immaginazione ma ha sempre un respiro più corto. Il passato tendiamo sempre di più ad accorciarne la lunghezza e soprattutto a mescolarne gli elementi e non avere più una reale dimensione. Il passato anche nostro, il passato della nostra povertà, della nostra guerra, delle nostre dittature, delle nostre emigrazioni, tutto viene bruciato, dimenticato. E questa presentizzazione è quella che ci avvolge quotidianamente e il flusso di informazioni, immagini, dati, notizie e altri elementi sono talmente rapide, sono consumati in un attimo per cui non facciamo nemmeno in tempo ad elaborarli che subito vengono trascinati via e sostituiti da qualcos'altro. Ecco allora questo presente che si sposta poco a poco mangiandosi le altre dimensioni. È il caso, quella che viene chiamata anche la surmodernità, proprio un'accelerazione della storia. Tutto avviene con una rapidità che prima non era concepibile e pensabile. E noi spesso non siamo ancora adattati a questa elaborazione. Riflettevo oggi, guardando la bellissima foto della mostra di Paolo Pellegrini, come alcune foto, soprattutto in un passato, avessero aggiunto una dimensione iconica di concentrare in un'immagine la storia e di rimanere nel tempo. Un esempio è quello di una foto che Cartier-Bresson scattò mentre si stava costruendo nel 61 il muro di Berlino. È una foto vista da dietro di due uomini che sono saliti su un parapetto per lanciare ancora una volta l'ultimo sguardo mentre i muratori stanno erigendo il muro. Ora, credo che da quando la foto a quando venne pubblicata sui giornali, forse è passato un mese, forse sono passati due mesi, quella foto è rimasta l'icona della costruzione del muro di Berlino. Ci ha raccontato la storia. Quando nel novembre dell'89 venne abbattuto il muro di Berlino, c'erano migliaia di fotografi e non ci ricordiamo forse una foto di quell'evento. Ma non perché non fossero bravi i fotografi, perché le immagini vengono consumate con una rapidità e non abbiamo tempo di sedimentarlo, di farle diventare memoria, cioè di farle diventare cultura. Siamo passati con questa accelerazione dai luoghi a non luoghi, ma anche dal tempo al contempo. E un altro elemento su cui le comunità costruivano la propria narrazione e la propria memoria era legato ai rituali. Noi siamo la nostra memoria, noi siamo questo museo, chimerico di forme incostanti, questo mucchio di specchi rotti. Sono versi di Jorge Luis Borges che sintetizzano bene quanto è importante la memoria per costruire una qualunque comunità. E invece questa memoria si assottiglia, si mescola, si confonde, non è più una dimensione che pesa nelle nostre realtà. Pian piano svanisce. Sembra che l'unica memoria oggi che funzioni sia quella degli hard disk che accumulano dati, ma la memoria degli individui forse l'abbiamo delegata lì e non ci fa più riflettere e fare i conti con il nostro passato. L'Italia in particolare è un paese che i conti con il proprio passato non li ha mai fatti, non li ha mai fatti col colonialismo, non li ha fatti con la propria immigrazione, non li ha fatti col fascismo e non li ha fatti neanche con il terrorismo. E come diceva il filosofo Santayana, chi non conosce il proprio passato è condannato a ripeterlo. a questo dilatazione, a questa presentizzazione, a questa accelerazione sicuramente ha contribuito in maniera determinante l'avvento del web, della rete e non solo della rete ma del gadget che si connettono. Sappiamo che è una delle rivoluzioni, ci sono state molte rivoluzioni nella storia del genere umano, ma quella del web ha una differenza sostanziale che è avvenuta in una quindicina d'anni, scarsi. Le altre rivoluzioni, a volte la scrittura forse ha impiegato secoli per imporsi, per essere diffusa. Questa è stata una versione che tutti abbiamo conosciuto in una generazione, chi più chi meno. Quindi ancora siamo forse in fase di adattamento ma ha cambiato totalmente le nostre vite. All'inizio era un modo di avere informazioni e flussi, ma finché era legata ai personal computer era un qualcosa che tu vedevi quando eri a casa o eri in ufficio. Per strada stavi tranquillo. Con lo smartphone ci siamo sempre in contatto, sempre i preconnessi, sempre informati. E la presenza di questi smartphone, di telefoni mobili, ha mutato radicalmente anche i rapporti tra i membri di una comunità, o comunque tra le persone. Perché sempre di più questi media influenzano il modo con cui noi ci rapportiamo con l'altro. La perdita della corporalità, della fisicità e anche e soprattutto la perdita dell'empatia. La conversazione mediata perde tutta quella dimensione corporale, di espressione, mimica, facciale, tonalità della voce che caratterizza una qualunque comunicazione, che fornisce anche quelle sensazioni, a volte anche sbagliate, quello che diciamo a pelle, uno mi è simpatico o non mi è simpatico. Bene, questo viene meno. Tant'è vero che gli addetti hanno cercato di sostituire mettendo le faccine, gli emoti con gli emoji, proprio perché a volte è difficile da un testo scritto. Ha cambiato sostanzialmente anche il linguaggio. Siamo in una forma di oralità scritta, o di scrittura orale, perché scriviamo comunque attraverso una tastiera, benché digitale, ma spesso con un linguaggio che è orale, che non useremmo in una scrittura su carta. E soprattutto ha modificato il modo di conversare, perché una conversazione richiede tempi e spazi che siamo sempre meno disposti a concedere. Ecco, questo individualismo della società urbana industriale, in qualche modo ci ha spinto un po' a inchiuderci in una sorta di bolla, però senza nemmeno rafforzare una capacità di introspezione dentro di noi, che potrebbe anche essere positive per comprenderci meglio noi e comprendere meglio gli altri lì fuori. Invece, ecco, questa conversazione che passa spesso attraverso questi social o reali mezzi di comunicazione digitale, sostituisce la conversazione perché richiede meno responsabilità. C'è un libro molto interessante scritto da una sociologa statunitense, il libro si intitola La conversazione necessaria, è uno studio, una ricerca fatta tra giovani studenti dei college americani proprio sull'uso dei media. La risposta del perché si comunica sempre di più tramite smartphone è perché ti deresponsabilizza. Posso smettere quando voglio. Non c'è campo, si è scaricata la batteria. Non ho più la responsabilità di rispondere a chi mi sta davanti. Non posso andarmene e fare una figuraccia se ho delle persone davanti. Attraverso un medium questo è possibile. Dal face to face, che era la dimensione che caratterizzava la comunità, si è passati allo screen to screen. Schermo a schermo si passano. e anche il fatto che il linguaggio della rete in qualche modo peschi nella sociologia, la scimmiotti, pensiamo al termine community, ma la community non è una comunità e neanche i social non sono la socialità, sono un'altra cosa. La rete molto spesso non fa rete, non crea davvero dei legami tra le persone. Una delle altre parole chiave oggi è stata evocata da Enzo Bianco è condividere. Ma attenzione ecco, sono certo che Enzo non parlasse del condividere nel senso in cui viene utilizzato spesso nel linguaggio del web. Oggi invece esplenda che lo slogan sia condivido dunque sono. Ma questo condividere non è convivere, è condividere con un click, con un like, con un gesto che non richiede nessun impegno. E soprattutto questo venire meno della conversazione fa perdere la capacità di raccontarci e di raccontare. E noi viviamo invece di narrazioni, di racconti. E non lo vediamo solo nella dimensione personale, lo vediamo a tutti i livelli. Vediamo che la politica oggi è sempre di corto respiro. Non c'è più nessuna proiezione, uno sforzo nell'immaginare un futuro. Si ragiona in termini molto brevi, senza un orizzonte lontano. De Gasperi diceva che un politico guarda le prossime elezioni, uno statista la prossima generazione. Ecco, aveva ragione, ma oggi chi guarda le prossime generazioni? Ecco, questo accorciarsi fa parte sempre di questa bolla del presente. Però, torniamo all'idea originale, per convivere bisogna invece avere un orizzonte comune. Bisogna dialogare e costruire legami in funzione di quel progetto, di quell'orizzonte, almeno a lungo o a medio termine. E i legami che tengono insieme ogni comunità si fondano su uno scambio e su una fiducia reciproca. Tutti e due, lo scambio e la fiducia reciproca, hanno bisogno di parole e di sentimenti condivisi. Hanno bisogno di tempo, di impegno e di riconoscimento dell'altro. Anche di pazienza. Pensiamo alle amicizie. Le amicizie sono faticose. Avere degli amici veri è bello, ma è anche faticoso, perché vuol dire essere anche sempre pronti ad aiutare e anche essere aiutati, se gli amici sono veri. Non si risolve con dei semplici gesti. Ecco, però, che cosa è accaduto negli ultimi decenni? Che, soprattutto in Europa, ecco, sono venute meno tutta una serie di punti di riferimento su cui si costruivano anche questi legami. Il web non è certo l'unico responsabile, e lungi da me, demonizzare la rete. È uno dei tanti elementi. Ma tutto quel venir meno di strutture solide che davano dei punti di riferimento. Il venir meno di quelle che sono state chiamate le cosiddette grandi narrazioni del Novecento. Ideologie. Oggi la parola ideologia è squalificata. Se uno ti dice ideologico, è un'offesa, cioè non è certo un apprezzamento. Ma, lasciamo perdere, certe ideologie hanno fatto i danni, ma l'ideologia in fondo che cos'era? Era l'idea di società che vorrei costruire. Pensare al futuro. Ecco, il venir meno di tutte queste narrazioni ha fatto sì che ci si sentisse sempre più soli. Il venir meno di queste strutture, questa liquidità di cui parla Bauman, ci porta a una solitudine dell'individuo e anche a sempre maggiori paure. e anche l'incapacità di nuovo di creare grandi aggregazioni che si potevano costruire solo perché ci deve essere una grande narrazione. Oggi, molto spesso, le aggregazioni sono di breve termine. Sono momentanee, ci si aggrega per un momento, per un qualche cosa, tutti assieme, e poi si svanisce e questo si dissolve. E poi di nuovo si crea un'aggregazione da un'altra parte. non c'è più la massa che riesce. E queste forme di aggregazione assomigliano sempre di più a uno sciame. Uno sciame, cioè tutte le api si ammucchiano, fanno questo bellissimo mucchio e poi si dissolve nell'aria. E poi si ricrea un altro sciame nell'altra parte. Però anche qua il respiro è sempre corto. Non c'è mai un'aggregazione a lungo termine. E questo venire meno del senso di aggregazione, della capacità di aggregazione, crea paure, crea insicurezze, e allora, come un parte ha già detto oggi pomeriggio Enzo Bianchi, e allora ci si affida a delle immagini, a dei concetti astratti, l'identità. L'identità nasce sul cimitero della comunità. Quando le comunità erano vive non avevano bisogno di parlare di identità. La si viveva nel senso di appartenenza. Si è cominciato a fare i musei contadini quando i contadini hanno cominciato a non esserci più. il contadino non aveva bisogno del museo per sapere che era contadino. Lo faceva tutti i giorni il contadino. Ecco, quando cominciamo ad affidare a un concetto esterno, astratto, quanto mai difficile da definire, ecco vuol dire che non siamo più capaci di stare insieme tra di noi. Dobbiamo affidarci a un'idea che sta fuori, perché dentro non siamo più capaci di mantenere quei legami. ecco che allora si comincia a subappaltare questa nostra capacità di stare insieme, a subappaltarla a qualsun'altro. E allora ecco che la metafora dell'identità, delle radici, dell'appartenenza, che ci fa regredire a una sorta di neotribalismo. Cioè l'idea che uno abbia maggiori diritti di un altro perché è nato in un posto. Beh, ci fa pensare al fatto che allora non è un fatto di scelta. Io non ho scelto dove nascere. È casuale. Mi è andata forse bene. Sicuramente potevo nascere in parti peggiori del mondo. Non è stata una scelta, né merito mio e di nessun altro. Ecco, allora qui invece leghiamo il senso, quello che vorremmo chiamare di identità, a un dato naturale. Ecco perché la metafora delle radici è così florida, come un albero. Qui siamo in una città di vivaisti, che lo sanno benissimo, che cresce bene o cresce in un certo modo, in un certo luogo. In realtà, ecco, in questo non c'è niente di culturale. Non è un prodotto di scelta. La cultura è un fatto di scelta. Ma se spostiamo il limite, la differenza tra noi e gli altri, sul piano della natura, ecco che ricadiamo in quel modello classificatorio che ha portato in passato al razzismo e che purtroppo ci sta forse di nuovo riavvocinando a certe pulsioni. Come dicevo prima, e questo legato alla perdita di memoria, ecco che ci portano a questa chiusura. La comunità, o l'idea di comunità, non siamo capaci a praticarla, allora cerchiamo di salvarla costruendo i muri. Penso che dopo la guerra, meno la generazione come la mia che è nata dopo la guerra, per qualche decennio si era illuso che forse la lezione della Seconda Guerra Mondiale, della Shoah, le tragedie che hanno portato ci avesse insegnato qualche cosa e forse non abbiamo voluto ascoltare abbastanza, non abbiamo forse preso abbastanza sul serio quelle drammatiche parole di Primo Levi è accaduto, potrebbe accadere di nuovo. Sono bastati pochi decenni per sentire di nuovo quegli scricchioli sinistri che ci portano alla divisione, all'esclusione sulla base di qualche elemento che forse non è più la razza come veniva intesa allora, ma è sempre un qualcosa che attribuiamo alla natura degli altri, diversa da noi. Ecco di nuovo che ritornano queste pulsioni e ritornano con un linguaggio greve, con un linguaggio che qualche decennio fa non avremmo accettato, non ce lo saremmo permessi di sentire dire certe cose. il fatto che oggi si possano dire certe frasi, beh, questo ci fa pensare che l'asticella della sopportazione è stata posta più in alto. Siamo disposti a sopportare fatti e parole, oggi anche chi parlava di ecologia del linguaggio, ecco, non ne sono solo i fatti ma anche le parole, il modo disprezzante di trattare delle tragedie, ecco, avremmo avuto forse tutti un rigurgito di dignità, di indignazione che ci avrebbe detto no, questo non si può dire. Il fatto che oggi invece questo accada sempre più frequentemente ci deve far riflettere. Ci deve far riflettere su come sia molto rapido la perdita di memoria. Tutto quello che era un valore fondante fino a qualche anno fa ma oggi sembra svanito per vari motivi, per motivi anche anagrafici. La generazione che ha vissuto le dittature, che ha sofferto le discriminazioni razziali, per motivi anagrafici oggi sta scomparendo, ci scompaiono i testimoni, per motivi politici, per paure di vario genere. Ed ecco che se per qualche decennio appunto avevamo sognato che ci fosse una sorta di archiviazione di certe pulsioni, oggi ci ritroviamo a fare i conti con le stesse identiche ideologie del passato, declinate in forma moderna. Ci ritroviamo con delle declinazioni che si camuffano anche di relativismo, che dichiarano di voler rispettare le diversità culturali degli altri e proprio nel nome della tutela delle specificità culturali propongono di tenere separati gli individui. Lo stesso principio che animava l'apartheid sudafricano. Ecco, quando... Applausi 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 Nessuno ha mai protestato. Uno pensa che i lampedusani siano geneticamente diversi, ma dopo quello che abbiamo detto, poi c'ho qui i barbuiani che mi si griderebbe subito, l'unico modo era andare a parlare con i lampedusani. E la risposta era banalissima, semplice. Non è che i lampedusani abbiano elaborato chissà quale concetto dell'altro o del diverso. Qual è la diversa differenza? Che noi, seduti nelle nostre comode e calde case, vediamo questi eventi attraverso uno schermo che sterilizza e anestetizza la realtà. Queste immagini che spesso sono accompagnati da commenti che riducono a statistica, che usano un linguaggio che già caratterizza, dà una certa impostazione, per esempio il termine sbarchi. Nessuno direbbe mai che una nave della costa crociera o uno yacht sbarca, attacca o approda. Ma se parliamo di sbarchi ci viene in mente la Normandia, ci viene in mente Anzio, ci vengono in mente gli eserciti. L'immagine dell'invasione. Ecco, e di qua tutta una narrazione per cui la realtà è diventata quello che accade in quello schermo. Qual è la differenza? Che a Lampedusa non la vedono attraverso lo schermo. Vedono delle persone che hanno paura, che hanno freddo, che hanno subito anche delle torture. E con una semplicità disarmante, semplicemente danno una mano. Come forse faremmo tutti se ci trovassimo di fronte a questa realtà. Ecco perché c'è il discorso di prima, di come siamo vittime di questo flusso di informazioni. E noi riusciamo a volte più a scendere i fatti dalla realtà. A volte bisognerebbe davvero staccare e provare ad andare a vedere le cose. Non c'è sicuramente nessuna differenza. I Lampedusani non sono più buoni degli altri. Semplicemente vedono in un altro modo. Vedono le persone che in qualche modo ti interrogano. Mi riconosci come tuo padre, come padre di rito? Sì, ti salvo. Finita lì. Non c'è altro discorso. Ecco, però purtroppo le cose stanno andando diversamente. Ed è curioso proprio tra l'altro vedere che molte di queste reazioni contro la migrazione avvengono proprio laddove il fenomeno è meno importante. L'abbiamo visto con la Brexit, dove ha vinto più nelle regioni dove sono meno migranti, meno stranieri che non nelle città. E questo ci farà ancora di più capire quanto siamo condizionati da queste enormi informazioni. C'è qualcosa che però accomuna queste reazioni al passato. E la comuna, forse in modo inconscio, in modo anche un po' sgrammaticato, non c'è una teoria della razza oggi, non c'è nemmeno un bersaglio individuato, ma è una specie di odio diffuso contro chiunque viene reputato diverso, su che base, anche qua, cambia di volta in volta. Allora, che cos'è che accomuna? È sempre quella paura maledetta della contaminazione. Sembra sempre che in qualche modo gli altri vengono a contaminare una presunta purezza. E qui ecco che, di nuovo, ricadiamo in quel paradigma, in un modo rozzo, becero, nemmeno terrorizzato, ma sempre con la paura che l'altro in qualche modo ci cambi perché ci pensiamo in un certo modo, puri tutti. E quando invece la storia ci dimostra che non lo siamo. E purtroppo, dicevo, viviamo in un'epoca in cui sono i muri a prevalere. Nietzsche ha scritto che la grandezza dell'uomo è di essere un ponte e non uno scopo. Eppure, oggi si costruiscono muri. Per ogni chilometro del muro di Berlino abbattuto, in Europa sono stati costruiti 142 chilometri di nuove frontiere. Molte di queste blindate. E non solo sono muri fisici, non sono solo muri materiali, visibili. Quindi, quelli in fondo sono più facili da girare o da abbattere. Ma sono i muri ideologici, i muri politici, i muri giuridici. E non parliamo dei muri etici o morali. Einstein diceva che è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio. Ecco, è più facile abbattere o scavalcare un muro che spezzare le barriere o i muri di odio, di segregazione che costruiamo culturalmente. Perché questi non si abbattono così facilmente. Eppure stiamo vivendo in questa epoca di muri. E se non c'è, se non reagiamo più che prontamente, questi muri ci avvolgeranno fino a soffocarci. E allora mi sono venuto in mente, pensando a questo, alle parole di un intellettuale italiano compianto, mai abbastanza apprezzato come Alexander Langer, altro tesino, negli anni 70, fu anche parlamentare per i Verdi, proprio per quanto altro tesino o sul tirolese, secondo da che parte dobbiamo guardare, uomo che è vissuto sul confine, che fin dall'inizio ha vissuto il conflitto tra le comunità linguistiche italiane, tedesche, e che quindi ha sempre avuto dentro questa dimensione transfrontaliera. E proprio Alex Langer che scrisse delle pagine memorabili durante il conflitto dell'ex Jugoslavia, un famoso articolo quando disse l'Europa o nasce a Sarajevo o non nasce mai più. E forse aveva ragione, ecco, perché qui abbiamo visto di nuovo il costruirsi improvviso di muri e lo spezzarsi di una comunità. E Alexander Langer diceva, bisogna abbattere o aggirare i muri. Se noi riusciamo a batterli, facciamoci contrabbandire. Ecco, è un'immagine bellissima, anche perché se noi andiamo a vedere la storia dell'umanità, in fondo è una gran storia di contrabbando. Tutte le culture vivono di contrabbandi. C'è sempre qualche elemento che è stato portato da una cultura all'altra. Tutte le culture sono di per sé multiculturali perché qualcuno ne ha contrabbandato qualche cosa. Di fatto il contrabbando sembra una parola negativa, è illegale di fatto, ma il contrabbando è funzionale perché assolve a una mancanza, un qualcosa che non c'è e che lo devi portare da fuori. E noi abbiamo sempre bisogno di qualche cosa che venga da fuori, anche se non lo ammettiamo. Cerchiamo di costruire i muri, ma poi i contrabbandieri ci servono per non soffocare, per non morire asfissiati. Ecco perché l'immagine di Langer del contrabbandiere di coscienza, lui diceva, è importante. Perché quel ponte di Mostar è stato abbattuto a cannonate nel 94? Non perché avesse una qualsiasi rilevanza strategica. Era un ponticello, si passava solo a piedi. Non cambiava certo gli equilibri. È stato distrutto dall'artiglieria perché era un simbolo. Quel ponte era un simbolo che legava due comunità diverse che avevano scelto di diventare una comunità unica. E questo disturbava. Per questo questo ponte è stato abbattuto. Ecco allora perché è importante oggi non solo ricostruire quel ponte, ma ricostruirne di altri e se non ci sono, contrabbandare. Imparare a capire che la differenza non è necessariamente un pericolo, ma soprattutto che la differenza è già all'interno di noi. Che la comunità va pensata, ma anche quando c'era, quando forse ci sembrava esistesse, non è che fosse una comunità di uguali, di omogenei. all'interno comprendeva le differenze e comunque si è sempre nutrita di qualche cosa che veniva da fuori. C'è un verso bellissimo di una canzone di Leonard Cohen che dice «C'è una crepa nel muro, ma è da quella crepa che entra la luce». Ecco, e questa è l'immagine del muro che dovremmo volere tutti. Quindi, vederci la crepa, crearla quella crepa, si inizia con la crepa e poi pian piano il muro crolla. Ecco, purtroppo non è un momento facile per fare questo, però ascoltiamo ecco le parole di Langer, facciamoci un po' tutti contrabbandieri di coscienza e di umanità. Applausi Mi chiedo ancora cinque minuti e chiedo a Roberta di venire su, perché è sul palco con me. Applausi Avevo scritto una piccola filastrocca, ma io non so leggere e quindi lascio che lo faccia Roberta, che è molto più brava di me. Applausi C'era una volta un piccolo paese di cui, scusate, non ricordo il nome. C'erano le case, le strade, le botteghe. Quel che mancava erano le persone. Piano piano erano andati via tutti, chi per vie nuove, chi per la strada nota. Sembrava un nido senza passerotti. Sembrava proprio una conchiglia vuota. Un giorno vennero qui da tutto il mondo per vedere cosa ci aveva regalato il mare. Due statue grandi, due corpi da guerrieri. c'erano tutte da applaudire e a festeggiare. Quando quel mare poi ci regalò persone che non erano statue e non erano eroi. nessuno venne a spendere il suo nome. Su quella spiaggia eravamo solo noi. Si diede pane e dignità a quella gente. È casa vostra, è qui il vostro arrivo. E poco a poco, tra le molte indifferenze, quel paesino tornò a essere vivo. Finestre aperte, viuzze sorridenti. La terra sembrava essere rinata. Era un paese dai colori differenti. Erano giorni di luce colorata. Un giorno poi, per l'invidia di certa gente, si svuotò la piazza, la scuola, i banchi. Non tutti amavano quelle differenze. Volevano stare solamente tra bianchi. Ma son sicura che in qualche angolo di mondo i bimbi giocheranno ancora in qualche piazza. Forse faranno un grande giro tondo, senza sapere cosa vuol dire razza. Grazie.